De Magistris si inventa un'elezione per gli immigrati, per rendere la città più inclusiva, per far sì che tutti si sentano napoletani e quindi fa un'elezione tra tutti gli immigrati napoletani. Il consigliere di Napoli, che viene eletto tra soltanto gli immigrati in questa grande festa di giubilo, finalmente tutti partecipano alla vita cittadina e sanno dare il loro contributo a questa città, bene, insomma non parla italiano, non parla italiano, non sa parlare italiano, porca puttana, cioè non parla italiano e fa il consigliere comunale a Napoli e tutti fanno la grande festa e quindi sapete che cosa dobbiamo fare? Noi italiani, noi contribuenti nella città più indebitata d'Italia, oltre a dopo Roma, sapete che dobbiamo fare? Dobbiamo pagare un cazzo di interprete perché riesca a tradurre quello che il consigliere straniero dovrà dire nel consiglio comunale per l'inclusività napoletana. Ma vi rendete conto? Qua stiamo a parlare del capotreno, noi stiamo parlando qua del sindaco di Napoli che fa sì che venga eletto un consigliere tra gli immigrati, per esempio gli immigrati possono essere, hanno diritto di voto, ci sono tanti immigrati che sono diventati italiani che potrebbero votare, ci sono tante persone di coloro che sono consiglieri comunali, sono senatori, ma quale cacchio di motivo? Lo facciamo, lo facciamo uno che non sa parlare italiano e paghiamo un cazzo di traduttore che lo traduca nei consigli comunali e gli faccia capire che cosa stanno dicendo.